12 mesi significativi in cui la città metropolitana di Torino ha affrontato sfide complesse, in primis quelle legate all'attuazione del PNRR. Questo in sintesi il bilancio amministrativo del 2022, tracciato dal sindaco metropolitano Stefano Lorusso, incontrando i giornalisti nella conferenza stampa di fine anno. Fra i temi affrontati dal sindaco, il futuro degli impianti olimpici, il PNR appunto, la viabilità con il tema della gronda est e l'edilizia scolastica. Sindaco PNRR ma non solo, è stato un 2022 veramente impegnativo per la città metropolitana, per chi l'amministra tra l'altro gratuitamente? Sicuramente un bilancio estremamente positivo, la città metropolitana è stata in grado di rispettare tutte le scadenze imposte dal PNRR ed erano scadenze davvero proibitive. L'ha fatto puntando al merito della ricucitura sociale e territoriale e dello sviluppo economico e l'ha fatto con un metodo che è stato quello di confrontarsi con i sindaci, con gli amministratori locali che è stato un metodo vincente che ha portato a buoni risultati che vogliamo certamente ripetere anche nel 2023. Un metodo di confronto quotidiano con gli amministratori locali, il rapporto come sta procedendo con i colleghi sindaci? Il rapporto è un rapporto credo molto positivo, molto costruttivo anche all'interno del Consiglio metropolitano, i rapporti sono improntati al merito delle questioni, si lascia fuori dalla porta la politica dei partiti che talvolta si occupa di far litigare senza concretezza, questo mi sembra davvero un ottimo auspicio anche per il 2023 e vogliamo continuare a tenere aperto questo filo del dialogo con tutti i consiglieri delegati proprio perché attraverso questo dialogo degli amministratori davvero si può fare la differenza sugli effetti prodotti sul nostro territorio che è un bellissimo territorio, che ha dei problemi, che ha una enorme vastità ma che davvero può rappresentare la cerniera dell'intero Piemonte e soprattutto il motore del rilancio del nord-ovest. Le grandi sfide del 2023? Sicuramente la messa a terra dei progetti disegnati nel 2022, l'attuazione della riforma della nostra amministrazione della città metropolitana e tutta una serie di questioni che riguardano le grandi questioni infrastrutturali, pensiamo alla discussione sulla tangenziale Est pensiamo al tema dell'alta velocità Torino-Lione, alla gestione dei fondi compensativi della tratta nazionale della riflessione sul patrimonio postolimpico e in generale sull'attuazione degli strumenti di pianificazione proprio in chiusura d'anno abbiamo approvato il piano territoriale che adesso andrà in consultazione nei comuni e il piano urbano della mobilità sostenibile, insomma tante cose che cercheremo di mettere in campo nell'ottica che dicevo prima di metodo e cioè con un ente che fa le cose, le produce, le mette a terra e dialoga con i sindaci. Jacopo Suppo, vice sindaco metropolitana, viabilità edilizia scolastica sono un po' i core business della città metropolitana con investimenti, con risorse proprie ma soprattutto attrazione di risorse nazionali. Assolutamente sì, il 2022 è stato un anno molto importante per la città metropolitana di Torino soprattutto su questi due temi. Abbiamo voluto rilanciare un pochettino l'azione dell'ente su questi due core business di città metropolitana dopo alcuni anni dove le risorse sono un po' mancate. Ecco, devo dire che città metropolitana di Torino che ha la dimensione di quella che era la vecchia provincia ha patito in maniera molto pesante la riforma del Rio, una riforma che reputiamo sbagliata e che speriamo possa essere rivista dal governo che si è appena insediato. Risorsi importanti, dicevamo, risorsi importanti sulle strade. Noi abbiamo 2.800 chilometri di strade di responsabilità diretta nostra sulle quali abbiamo fatto degli interventi significativi e tanti altri ci appresteremo a farne. Ne voglio citare due su tutti. I lavori di ristrutturazione del ponte di Alpignano che si sono conclusi poche settimane fa e che hanno riguardato la popolazione di quell'area per oltre un anno. E l'apertura, due settimane fa, dei cantieri alle gallerie di porte nel Pinerolese. Anche lì abbiamo dovuto chiudere le gallerie per dei problemi di sicurezza. Le gallerie sono state chiuse quasi un anno, hanno creato tanti problemi e tanti disagi e la popolazione locale. Grazie alle iniziative progettuali e grazie alle risorse di città metropolitana siamo riusciti a mettere insieme quasi 800 mila euro e a far partire un cantiere che si svilupperà nei prossimi due mesi e mezzo e che risolverà un problema davvero importante per le valli del Pinerolese. A fianco a queste iniziative ci tengo a sottolineare l'assunzione di 33 nuovi cantonieri, quindi persone tecnici, formati, che andranno proprio a lavorare sulle nostre strade per tornare a far sentire la presenza di città metropolitana come un ente vicino al territorio, vicino ai sindaci, vicino alle amministrazioni locali e soprattutto aderente alle necessità dei cittadini. A proposito di sindaci, faticoso ma è importante confrontarsi tutte le settimane con loro, andare sul territorio e ascoltare le loro esigenze. Sì, faticoso ma è assolutamente importante e anche arricchente da un punto di vista amministrativo e da un punto di vista umano. Le amministrazioni locali e soprattutto i sindaci sono davvero i frontman e le frontwoman delle istituzioni del nostro paese. È un mestiere difficile, complicato, che si fa spesso e volentieri non a tempo pieno, perché le risorse economiche non consentono di svolgere questa attività a tempo pieno, abbiamo sempre maggiore difficoltà a trovare persone che hanno voglia di assumersi questo onore, che però è anche un onere. Ebbene, nel nostro territorio, che conta 312 comuni, ho potuto constatare davvero una grande disponibilità da parte dell'amministrazione, un grande amore per il territorio da parte di ogni sindaco. Io ne ho incontrati quasi un centinaio in questo primo anno di lavoro e devo dire che ho trovato grande disponibilità, grande voglia di collaborare, grande serietà e grande passione. I problemi sono tanti, sappiamo che nessuno ha la bacchetta magica, ma se riusciamo a ricostruire un rapporto di fiducia tra i comuni, le amministrazioni e gli enti di secondo livello, ecco, creiamo un circuito virtuoso con il quale possiamo davvero dare delle risposte importanti ai nostri cittadini.